Per lo spazio Mangia e Bevi, Italia Life, il locale giusto per te. Amici di Night and Day, eccomi qui all'Italia Life dove ad accogliermi c'è Luca. Ciao, come stai? Ciao Simona, tutto bene, grazie. Allora Luca, Italia Life, un altro sabato sera, tanta gente, un locale come tu sai per me è bellissimo perché è davvero di un'accoglienza strepitosa. Ma tanti prodotti, tanta qualità. Sì, allora io mi piace sempre ricordarlo perché è tutto quello su cui puntiamo, la qualità dei nostri prodotti sia dal beverage che dalla parte alimentare, proprio quella pulinaria, sì. Quindi noi abbiamo una vasta scelta di prodotti, tutti di altissima qualità. Voglio ricordare, perché non sempre lo facciamo, che abbiamo una vasta carta di vini, provenienti da tutta Italia, ognuno dai suoi paesi d'origine, perché tutti quanti fanno il vino però non sono come quando viene fatto nel suo paese d'origine proprio. Quindi direttamente dalla città, dal luogo nativo del vino. Esatto, facciamo un esempio su tutti, quello più classico, il Nero d'Avola, in questo caso viene prodotto da una cantina che è proprio delle zone di Avola e quindi siamo proprio nella nella patria del vino con i suoi sapori, i suoi odori e i suoi profumi che ha normalmente. Benissimo. Poi la caratteristica un po' dell'Italia Life è la birra, perché qui all'interno del tuo locale ci sono effettivamente tanti marchi che magari non sono sponsorizzati, sai, ne parlavamo prima, tu lo sai, io sono una curiosona, però tu mi sai dare tante spiegazioni che magari è bene che lo sappiano anche i nostri amici a casa. Allora possiamo ricordare, come prima dicevamo giustamente, che i marchi non sono così blasonati più che altro come i classici marchi che conosciamo un po' tutti quanti, però hanno dalla loro un ottimo rapporto qualità-prezzo che non è mai da sottovalutare e quindi ricordiamo che ci sta anche a questo gruppo che io tengo a partire anche qui alla Guinness, che è il sistema quello là che forse c'ha qualche altro altro. Io l'ho bevuta prima. Però ti sei pulito i baffetti, per non farti vedere. Era una specie di cappuccino. Sì, qualcuno così mi prende in giro e mi dice dammi un cappuccino e io so già che parla della Guinness, perché è una birra molto particolare, molto profumata e delicata anche allo stesso tempo. È il sistema nuovo che praticamente è un brevetto di sempre della Guinness che hanno inventato loro e quindi serve a dare una qualità sempre massima e una birra sempre al top come Dio comanda, per farla proprio sempre al 100%. Abbiamo praticamente alla spina una bionda doppio malto da 12 gradi, una bella birra corposa e consistente. Una bella biondona! Una bella biondona, esatto, tutta formosa. E poi abbiamo una bionda normale da 5 gradi, una bionda più diciamo volgarmente detta beverina, un po' più da, diciamo, anche da aperitivo così. Un qualcosa che veramente qui all'Italia Life non si può dire di no. Io sono legato a diversi tipi di piatti e noi facciamo gli straccetti con aceto balsamico, rucola e scaglie che sono eccezionali. Ma gli straccetti mica quelli là che si pulisce? No, 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 quelli là che si mangiano, quelli commestibili, quelli altamente commestibili. E poi ci sono un altro nostro cavallo di battaglia, sono gli spiedini, che molti si pensano che sono gli spiedini quelli classici, quelli con, esatto, no, sono praticamente delle fettine di carne arrotolate con all'interno del formaggio e speziate e panate su un lettino di insalate. Particolarità, particolarità. Ma l'importante della particolarità deve essere supportata dalla bontà e che sono eccezionali, è questo il fatto. Birra, ristorazione, enoteca, rummeria? Certamente, abbiamo una vasta gamma di rum, sempre per il discorso precedente, dai loro paesi di origine, quindi Madagascar, Guadalupe e altri paesi, non siamo qua in Galli tutti perché non ce la faremo. E quindi hanno tutto una, sempre puntando sulla qualità e rapporto qualità-prezzo. Poi c'è, ricordiamo sempre, visto che adesso fa ancora molto freddo, ricordiamo che possiamo, noi per il preserato, possiamo anche, facciamo tipo salata tè, proprio con i tè dell'eraclea e la cioccolata sempre dell'eraclea. E dopo mi farai stagiare, me l'hai promesso. Sicuramente. Qui, all'interno del tuo locale, c'è la possibilità del wireless. Sì, il collegamento praticamente a internet senza fili, giustamente senza pagare, non è che facciamo e poi lo facciamo pagare. Allora, come funziona? Si viene qui, io porto il mio computerino. Il computer o un palmare o i telefonini di ultima generazione che sono lo stesso wireless e si possono collegare sempre, previa a chi è stata di una password che forniamo noi e praticamente uno può navigare liberamente tutto il tempo che vuole, senza limiti di... E chissà se magari proprio qua l'Italia Life, tra un chattare e l'altro, nascerà una nuova coppia. Potrebbe essere. Allora, io ti saluto, intanto tu mi prepari la famosa cioccolata. Vado subito. E salutiamo gli amici Night in Day. Ciao. Allora, amici Night in Day, semplicemente, Italia Life. Ciao. Ciao.